ciao a tutti ragazzi io sono un tragex95 e oggi siamo qui in questo nuovo video su minecraft in compagnia dei miei due fratelli bella faccia e kendall qualità roccati e quello originali sarebbe troppo bello sì ciao ragazzi se vi chiedete perché ho questi due diamanti perché ci sta uno che commercio diamanti e me lo prendo anche e sti commerciando e di giro perché raga non posso ucciderlo perché non ti posso uccidere ma ragazza ma perché la posso colpire solamente i piedi raga guardate fermo 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 guardate che paga aspetta bam e la posso colpire qua vabbè pazienza come noi abbiamo tre diamanti ragazzi e si siamo ricchi si con tre diamanti non è tanto basta colpirmi e poi perché hanno me al sì al sedere vabbè sì qua maledizione a te da kendall che li mette tutti vicini a un distanziati siamo intesi scendi scendi maledizione vabbè ragazzi si abbiamo fatto anche delle mura molto belle perine la nostra stanza no si è caduto pure qua abbiamo perso tre diamanti abbiamo perso tre diamanti ciavi diamanti dammeli raga lui è ricco quindi ha commerciato assai raga lui è ricchissimo ha commerciato tantissimo raga perché non ce l'abbiamo solo da un giorno stavano in là lui ha commerciato tantissimo datemi diamanti datemi diamanti basta che ha qui lui ha commerciato tantissimo 58 ma quanto commerci ciao ragazzi sono io bella faccia ciao allora stiamo qua che andava ma sei ricco come hai fatto a avere tutti i diamanti veramente come hai fatto vabbè ragazzi ce l'abbiamo da anche da un mese questa vanilla raga non l'ho mai portata chi è stato a colpirmi basta 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 io ne ho 58 sono ricco sono ricco sono ricco sono ricco sono ricchissimo invece ora li butto nella lava no scherzo no un colpo un altro colpo e muoio no non mi colpite non mi colpite perché se no no non vi colpite basta è cresciuto l'albero prendete tutto l'albero datemi il legno che bello ragazzi come andare ok poi portatemelo in camera nostra ok la fai la stanza poi poi la migliora ok ok però la dobbiamo fare bellissima no tutto sto legno che ci cresce tu hai detto che avevi quattro diamanti si raga dammeli sono morto proprio dal tucci di stato che non è stato che andrà sono stato io dammi quattro diamanti per favore non è il giorno è che mi si blocca sempre il telefono ragazzi basta c'è cinque tieni grazie mille grazie grazie dove sono eccoli qua grazie se la vuoi tu prenditela no no datemi solamente mi servono solamente il legno per prendermi il piccone non mi servono tutte queste cose sono inutili l'albero dai speriamo che lo troviamo per favore no vabbè ragazzi avrò pure in canale youtube come si chiamerà lasciate diamanti come solo dentro basta 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 ok ragazzi non so se ci possiamo fare per la dittura ragazzi un piccone in o una spada non so raga cosa conviene mi sa di più il piccone però è solamente perché io posso commerciare quindi invece facciamo la spada cioè almeno credo anche l'armatura non è male ragazzi allora prendiamo di tutto questo ok prima hai vero lasciati la diamanti un attimo che vado a prendere i diamanti che prendo pure anche la cesta perché mi chiudi la porta in faccia perché ragazzi se volete poi quando diventerà molto più grande raga basta picchiare basta sono serio basta ma ti vuoi togliere basta lasciami tutto c'è diamanti c'è anche la cesta oh c'è i meloni tinte lì bravo bravo bella faccia bravo sono io ho messo un altro che ho trovato a terra vedi bravo è grande questo diventa gigante sicuramente vero poi ragazzi so che anche con i nuovi ragazzi è il copyright però raga loro ci sono messi questi nomi per non far conoscere loro vera identità perché si vergognano tu metti subito quella terra servono troppi ragazzi diamanti posso fare due spade di diamante oppure un piccone non so che fare ragazzi piccone perché così possiamo parlare di tutto quello che c'è ma l'abbiamo anche e così perché ti dico messa come di conservo che così si metti dentro la cassa e quando commerciamo poi basta ok ragazzi mio fratello non capisce che non deve picchiare mi devo tenere questi diamanti belli diamantini che ti ho dato io non li rubate tenda non li rubi che tu sei rubato un ladro non rubatore hai fatto morire pure una spada allora io ho due spade un piccone in pietra che è in pietra va bene va bene allora ragazzi comunque è migliorato un botto mio fratello che andrà a fare un po' di casa è migliorato per niente proprio ragazzi però io sì nemmeno un po così basta picchiare ma chi io devo fare dove c'è devo prendere questo coble 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 sto ragazzi vediamo quando ho fatto tanta coble sto ok ragazzi qui spero vi sia piaciuto così lasciate dai condividete e iscrivetevi al canale e attivate la campanina per non perdere alcuna notificandoci perché alla prossima ciao ciao